non ho fatto l'entrata perché della c'è il mio fratello che sta cenando e ha detto che vuole un po' di privacy abbiamo appena finito di registrare un video epico che vedrete domani lo pubblicherò domani non so se alle 12.35 o alle 14.35 ciao 26 se stanno a magna vive bella a tutti da me il Gabon siamo tornati con questo nuovo video spero di sopravvivere alle trasfusioni che mi faranno tre zanzare che sono in camera ma detto questo ragazzi miei vrosalico ormai è praticamente un nuovo giocatore dell'inter permettetemi di dire che zitta zitta l'inter è quella che sta facendo un mercato più mirato di tutte le squadre che ho visto in serie attualmente se sta a scaricare pure il telefono devo fare attenzione perché se no rimango con le pezze allora 6 milioni di prestito è stato trovato l'accordo per 6 milioni di prestito e riscatto a 17,5 milioni di euro permettetemi di dire scusate se sono ripetitivo che non mi sembra poi una cifra così così elevata per un terzino che comunque con l'Atletico Madrid qualcosina sicuramente l'ha dimostrata e poi non ci dimentichiamo che è arrivato secondo al mondiale giocando da titolare nel ruolo di terzino è un classe 1992 che fa il terzino destro all'occorrenza può fare anche il terzino a sinistra oppure il centrocampista di destra che cosa com'è riuscita l'Inter ad assicurarsi un giocatore del genere perché avete sentito Simeone un paio di giorni fa ha detto ma per me vrosalico è un giocatore importantissimo spero di ritrovarlo qui quando ci rincontreremo per il ritiro se non sbaglio e quindi spero di non perderlo perché punto su di lui e lo reputo un giocatore importante è contata semplicemente la volontà del giocatore che voleva a tutti i costi tornare in Serie A evidentemente il progetto dell'Inter lo sta affascinando e non poco e quindi insomma alla fine credo che l'Atletico Madrid abbia deciso di monetizzare e di lasciarlo partire vediamo fino a quando c'aveva il contratto perché so su Transfer Market allora 26enne va bene 10 gennaio del 92 difesa terzino destro aveva un contratto in scadenza al 30 giugno 2022 quindi credo che qui la differenza l'abbia fatta proprio la volontà del giocatore è il fatto che l'Atletico Madrid abbia voluto accontentarlo probabilmente fossero riusciti a trattenerlo almeno un'altra stagione parere mio avrebbero potuto monetizzare almeno 7-8 milioni di euro in più una trentina di milioni ce li facevi senza alcun problema ricordiamo che Vrosalico già giocava in Serie A perché ha giocato col Sassuolo sicuro e se aspettate col Genoa mi pare che giocava aspettate un attimo Genoa esatto ha giocato anche con il Genoa prima ancora il Genoa lo ha prelevato dalla Dinamo di Zagabria quindi sicuramente un terzino che farà veramente comodo all'Inter che dopo aver perso Joao Cancelo va a coprire perfettamente quel reparto anche se Cancelo diciamo che è più offensivo sicuramente rispetto a Vrosalico che è un po' più difensivo ma comunque ragazzi c'ha stazza c'ha capacità difensiva c'ha il cross c'ha tante e tante abilità qualora dovesse arrivare all'Inter anche Vidal oggi ho letto una notizia che dice che Vidal forse o no forse aspettate diceva proprio che Vidal entro non mi ricordo chi l'ha detto lascerà il Bayern di Monaco quindi le probabilità che possa tornare in Serie A sono veramente elevate considerato che il costo del cartellino si aggira sui 25-30 milioni d'euro se dovesse veramente prenderlo l'Inter con Ingolan Vidal e Asamoah che comunque può fare il terzino può fare anche il centrocampista De Vrij Lautaro Martinez Icardi Perisic Perisic Candreva che impia più una stanno a fare una squadra di quelle che secondo me veramente ragazzi fate attenzione a questa Inter perché potrebbe mettere i bastoni tra le ruote c'è più a parlare veramente a chiunque ma voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questo acquisto perché ormai è praticamente ufficiale l'ha detto Sky e quando dice Sky io ci credo al 100% secondo voi è un ottimo acquisto per sostituire Cancelo ma di che stiamo a parlare è un giocatore veramente incredibile questo è il mio parere mi sono scordato di che in Serie A Vrosalico aveva fatto 79 presenze e 10 assist che Pentersino parere mio anche se non ha mai segnato non è per niente male di conseguenza mi piace commentate condividete iscrivetevi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto profilo Instagram e canale Telegram vi lascio tutto in descrizioni vi invio le feed che YouTube non manda così scopritemi i nuovi contenuti ma soprattutto vi fate i miei affaracci di vita privata attivate la campanella a fianco al tasto iscriviti mi devo togliere questo vizio di parlare rapidamente quando faccio il video devo sempre andare al bagno per quello mi sbriga a parlare non per altro attivate la campanella a fianco al tasto iscriviti e ci vediamo alla prossima con un nuovo video voglio che mi diate un voto di Joao Cancelo all'Inter da 1 a 10 scrivetemelo nei commenti e se secondo voi sarà determinante per la stagione dell'Inter oppure se sarà un flop cosa che sinceramente non credo alla prossima con un nuovo video ragazzi miei bella a tutti buona serata